Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Renzi fa un ragionamento intelligente. È un uomo intelligente, è un politico intelligente, su questo non c'è dubbio. Gli italiani hanno perso fiducia in lui, purtroppo per lui. Aveva raggiunto, pensate, oltre il 40%. E adesso è a meno del 2%. Se la vi, caro Matteo. Ma che cosa dice Matteo Renzi? Dice, ma il vero pericolo. Ma dai, con sta storia di nostalgici, è una roba ridicola, beh, l'abbiamo detto. La sinistra, come abbiamo sempre detto, incapace di trovare lettori, sventola sempre la stessa cosa. Parla sempre di questi nostalgici che mettono in pericolo la democrazia. Ma non esistono, esistono solo nella loro mente. Quelli che ci sono, ovviamente c'è, ci sono dei gruppi di questo tipo, ma sono ininfluenti. Non c'è nessun pericolo per lo Stato e per la democrazia. Sono quattro babbei che non sanno neanche di quello che stanno parlando. Fanno gesti e dicono cose, sono slogan che trovano nelle magliette che vendono a Predappio, nelle frasette che trovano sui calendari di Predappio. Sapete che lì ci sono tutti dei negozi che vendono souvenir per i nostalgici, che poi i nostalgici non esistono più, perché... Nostalgici di che cosa? Il nostalgico è uno che ha nostalgia di qualcosa che ha vissuto. E questi qui, nostalgici di che cosa? Del nulla. Quindi, come dice Renzi, come dicono in tanti, persone illuminate, con un minimo anche di intelligenza, diceva basta con queste cose, le manifestazioni con i palloncini e la bandiera dell'Unione Sovietica, ma per favore. Però manifestazioni piene perché l'elettorato di sinistra con questo si gasa, con questo si unisce, tutti uniti contro i nostalgici. Ma dove sono i nostalgici? Eh, ci sono. Dove? Eh, da qualche parte ci saranno. Ecco. Ma che pericolo è? Eh, beh, è un bel pericolo, eh. Eh, eh, sono così che cominciano le cose, eh. Eh, eh, eh. Anche quelli... Anche nel secolo scorso ridevano, dicevano, eh. Voi... Eh... Vabbè, andiamo avanti. Renzi dice, il vero rischio che corrono le democrazie non sono i nostalgici che vivono solo nella vostra mente, ma è il nazionalpopulismo. Nazionalpopulismo. Che cos'è? Ve lo riassumo in un modo io. Quello che vuol dire Renzi. Il problema adesso non è più queste sciocchezze qua. Il problema oggi, nel 2021, sono i populisti, nazionalpopulisti, cioè populismo nel senso di maree di persone incolte, ignoranti, che si informano, si laureano su Facebook, prendono il master in Wikipedia, prendono il dottorato in Instagram, si informano su siti che non sono riconosciuti, perché attenzione, attenzione, informarsi in internet non è sbagliato. C'è Google Accademico, ad esempio. Io quando ho fatto la mia tesi o le mie ricerche per l'università, esiste Google Accademico, dove ci sono le riviste specializzate, ci sono articoli, libri, che sono riconosciuti di ricercatori, scienziati, accademici, eccetera, eccetera. Quindi, attenzione, che dire laureati su Google non è corretto. Una cosa è andare sul sito Viva la Luna, e sul sito Viva la Luna mi hanno detto che non ci sono più le mezze stagioni. Io allora l'ha detto... l'ha detto chi? Attenzione che quello che si scrive in internet, una volta si diceva l'ha detto la televisione, quindi è vero. Oggi si dice, eh, ti dico che l'ha detto quello là? Chi? Quello lì, sul video, ti do il link di quel video che ha detto quello là, ascoltalo, eh. Ma chi è quello là? Che titolo ha per parlare di scienza, medicina, di fenomeni naturali? Chi è? No, è uno che fa i video, ti do il link, tu guardalo. Sì, ma chi è? È uno che avrà magari trovato delle cose su internet e poi fa i video. Ah, ed è così che uno si informa. Quindi il nazionalpopulismo che cos'è? Sono delle stuoli immensi di, chiamiamoli, ignorantoni, che non riescono a comprendere che informarsi, ci sono dei canali per informarsi, canali accademici, di studiosi, di cose provate scientificamente, non di ho sentito dire tizio ad etici. Chi è tizio? È tizio. Nome, cognome, è tizio. Ecco, il fatto è che stuoli di persone che ignorano come ci si informa pensano che qualsiasi cosa che trovano su internet è vero. Io avevo una mia parente che mi dice, guarda, ve lo giuro, ve lo giuro, guarda, le sirene esistono. Cioè, le sirene di che? Le sirene, nell'acqua. Perché? Guarda, c'è un video, guarda, hanno ripreso una sirena. Io in mente mia dicevo, oh mio Dio, oh mio Dio. Questa vede un video, che potrebbe essere vero, ma molto probabilmente è un fotomontaggio, è una roba... E mi dice, con certezza assoluta, questo hanno trovato la prova che esistono le sirene. Dico, mio Dio. Questo è il nazionalpopulismo, questo tipo di persone, che si uniscono a migliaia, decine di migliaia, e decidono di andare a fare una manifestazione contro qualcosa, senza avere la minima, la minima concezione di quello che stanno facendo, dicendo, l'ha detto tizio, ho visto un video di Cairo, ho visto... di Caio... di Cairo... ho visto... ho visto quella televisione lì che dice quelle cose lì. Ah! Quindi, questa gente, che si riunisce tramite delle convocazioni in internet, perché questo nazionalpopulismo solo qualche decennio fa non avrebbe potuto esistere, perché l'informazione passava per i giornali, sempre gli stessi, le televisioni di Stato e quelle tre televisioni di Berlusconi, basta. Il nazionalpopulista, quello che si informa sul sito delle comiche, bufale.it, sto inventando un sito, che uno ci può cascare, l'altro giorno vede una notizia eclatante, poi leggo il sito blog delle bufale.it, ecco, io posso discernere questo, c'è gente che ci casca, c'è gente che condivide, come quella giornalista che ha condiviso la foto di Giorgia Meloni con il dittatore qui dietro incorniciato, ed è una giornalista, il nazionalpopulismo si può unire in gruppi sui vari social e organizzare le piazze proprio perché c'è internet, vent'anni fa non l'avrebbero potuto fare, dove si univano, facevano i segnali di fumo dal balcone di casa, e mettevano nell'etere con una radio a tutti quelli che pensano che gli asini volano, ci troviamo in piazza perché me l'ha detto mio zio al bar che ha visto un asino che vola, ecco, il problema non sono i nostalgici che vede la sinistra dappertutto, il problema è il nazionalpopulismo, quello che Renzi chiama così, è proprio quello che abbiamo visto in questi anni, in questi giorni, in queste settimane, il problema sono è l'ignoranza che si unisce in gruppi, si danno forza gruppi di persone con poche conoscenze su una cosa che farnetica di avere la verità, si unisce e crede e si montano tra di loro le credenze, anche tu lo dici, vero? Allora non sono solo io, anche tu, siamo diecimila che dicono la stessa scemenza perché abbiamo visto su internet, in varie siti, quindi se siamo in diecimila diventa poi per loro una verità, come? tu non capisci niente, tu sei un professore dell'università che non capisci niente, tu non sai le cose, noi, questo gruppo, siamo in diecimila, ma cerca lì, ti do il link, vai a informarti, si vede proprio che non capisci niente, questo è il vero pericolo che vede Matteo Renzi, che vedo anch'io, i problemi che abbiamo avuto negli ultimi tempi in Italia e nel mondo sono dati da persone di questo tipo che si uniscono e si fanno forza, e sono tante, sono tantissime, il mondo potremmo dire che non è in mano agli intelligenti, alle persone di buon senso, le persone intelligenti e di buon senso sono una minoranza rispetto a questi nazionalpopulisti che si laureano sui siti bufale.it sono tanti, non sono una minoranza, credo che siano la maggioranza, ed essendo la maggioranza hanno la presunzione, perché poi l'ignoranza porta a una presunzione, tu non sai, io so, l'ho visto sul sito alubufalo.it no? bufalo o bufale la mozzarella di bufala.it l'ho visto sul sito mozzarella di bufala.it ecco, questo è il problema, questo è il pericolo che vede Matteo Renzi. Arrivederci a tutti.